Allora, buongiorno a tutti, se siete d'accordo, vedo che siete tanti, vi ringrazio per vostra presenza direi che possiamo cominciare di modo poi da dare seguito alle altre attività della mattina, diciamo rispettando gli orari. Io come sapete vi parlerò principalmente di una tragedia di Eschilo nella quale viene affrontato in modo a mio parere peculiare il tema del confronto dell'incontro-scontro Oriente-Occidente, ma farò anche riferimento alla principale, quella che già ieri sera è stata menzionata nella presentazione del programma del festival da Ugo Cardinale e dagli organizzatori, come la tragedia fondativa, come il testo fondativo del concetto di orientalismo della nostra cultura, cioè dei persiani di Eschilo e metteremo anche a confronto un pochino queste due pièce eschilee. Ora, perché, tengo però a spiegare appunto il perché della scelta, diciamo meno ovvia per così dire, di quella che ci sarebbe aspettati, cioè il perché ho pensato di parlare delle supplici di Eschilo e non piuttosto dei persiani. Perché vari decenni fa, diciamo esattamente nel 1978, quindi 45 anni fa, uno scrittore, anzi diciamo uno studioso, un anglista e comparatista statunitense-palestinese, quindi di origine palestinese ma poi naturalizzato, statunitense, insegnato per 40 anni alla Columbia University, cioè Edward Said, ha scritto un libro molto famoso, che è diventato molto famoso e anche molto controverso, molto discusso, che si chiamava orientalismo, orientalismo, quindi ha coniato, diciamo, in qualche modo la categoria dell'orientalismo nel senso deteriore nella quale noi utilizziamo questo concetto oggi, in sé la parola non è nuova, ma è l'accezione deteriore del termine che, diciamo, ha avuto uno scatto, diciamo, in avanti, soprattutto grazie, diciamo, a causa o per via di questo scritto, questo studio di Edward Said, il quale individuava nei persiani il punto d'inizio di questo processo di elaborazione della categoria concettuale dell'orientalismo, come vi dicevo, nell'accezione più deteriore, una categoria che Said stigmatizzava come espressione di un'immagine di Oriente che è stata costruita dall'Occidente, è stata costruita come veicolo di discriminazione culturale e di controllo geopolitico. E quindi, appunto, dicevo, in questa occasione sarebbe stato quantomai opportuno parlare dei persiani, anche perché, diciamo, i persiani sono, diciamo, stati individuati anche da un'altra grande studiosa, questa volta di tragedia greca, una grecista britannica, Edith Hall, che ha curato anche un'importante edizione dei persiani di esili, ma soprattutto ha scritto uno studio che ha un titolo eloquente, Inventing the Barbarian, Greek Self-Definition Through Tragedy. Quindi, inventare il barbaro, autodefinizione del greco, dell'uomo greco, attraverso, per il tramite della tragedia. Ebbene, anche Edith Hall, un po' sulla scia di quello, questo studio dell'89, del 1989, sulla scia di quello che già Eduard Said aveva scritto, appunto, nel 1978, diceva che, appunto, con i persiani, per la prima volta, con i persiani di Eschilo, per la prima volta nella letteratura occidentale, l'immagine dell'Oriente viene presentata come l'altro, l'altro che è per noi occidentali un pericolo, un'insidia, e viene anche rappresentata come un mondo, l'abbiamo sentito anche ieri sera, appunto, da Ugo Cardinale, come un mondo dominato, appunto, dalla confusione, dal chiasso, dal fanatismo, dal dispotismo, dall'irrazionalismo, dall'eccesso lussurioso, dalla crudeltà. E che quindi, per tutti questi disvalori, come tale, è votato alla decadenza e alla sconfitta. Ebbene, anche Edith O'Hall, un po' come faceva Eduard Said, dice che, appunto, questi stereotipi sono stereotipi oppositivi creati dagli occidentali per semplificazioni e sono, appunto, sono diventati particolarmente efficaci proprio grazie ai persiani di Eschilo, perché grazie alla teatralizzazione di questi stereotipi. Ieri sera Luciano Canfora parlava dell'efficacia del teatro nel veicolare questo genere di messaggi, diciamo, anche dalla forte portata ideologica e propagandistica. E quindi, diciamo, che cosa fa Eschilo? Sappiamo benissimo che attraverso queste semplificazioni, questi stereotipi oppositivi, diciamo, rende più comprensibile al pubblico atenese il mondo persiano. Diciamo che a suo modo, ma forse anche con una maggiore obiettività, era la stessa operazione che aveva fatto Erodoto con le storie persiane, cioè tradurre il mondo, diciamo, genericamente orientale, più specificamente il mondo delle popolazioni che componevano l'impero persiano, in un linguaggio comprensibile ai greci e comprensibile agli atenesi. Ebbene, tutta un'operazione finalizzata alla autodefinizione identitaria dell'Occidente. E invece, dicevo, ho scelto di parlare delle supplici, perché se è vero che appunto nei persiani il contatto tra i greci e i persiani a Salamina, per la battaglia di Salamina, viene vissuto in terra persiana, alla reggia di Susa, e quindi portato sulla scena con tutte le implicazioni proprie di un dramma dei vinti, perché è ambientato alla reggia appunto dei persiani, che vivono in diretta, diciamo, il racconto degli ultimi momenti della disfatta. E invece, nel caso delle supplici, questo confronto Oriente-Occidente avviene in una polis greca, cioè nella città di Argo, capiremo anche perché. E quindi, diciamo, che è un confronto che diventa un po' più articolato, nel quale, diciamo, si vengono, diciamo, Eschilo mette in atto delle inversioni di natura culturale e antropologica che rendono meno ovvi questi stereotipi dei quali appunto abbiamo parlato. Vedremo come. La trama probabilmente è nota a tutti, comunque sono le, si parla, le protagoniste sono le cinquanta Danaidi che insieme al loro padre Danao sono fuggite dalla loro terra, che è la Libia, per sfuggire alla pretesa dei loro cinquanta cugini, i figli di Egitto, che è il fratello di Danao, del padre appunto, di prenderle in moglie. E quindi arrivano ad Argo. Perché arrivano ad Argo? Perché era stato proprio Danao e il loro padre a consigliare Argo come terra di asilo, perché lì aveva avuto origine la propria stirpe. Perché io, appunto, io che era di cui si è innamorata, di cui si è innamorato Zeus, era stata trasformata per gelosia da Hera in una giovenca ed era tormentata da un tafano che la perseguitava, la inseguiva. E in questa sua fuga disperata, diciamo, la povera giovenca Io, si era rifugiata e raggiunta in Egitto. E lì, però, aveva partorito come figlio, appunto, di Zeus, aveva partorito un figlio nero, appunto, dalla pelle nera, Epafo, che poi sarebbe diventato lo sposo di Menfi. E Menfi era la ninfa fluviale, diciamo una ninfa egizia, figlia del dio fluviale Nilo. E dunque, in virtù di questa parentela, diciamo, mitica, sul consiglio del padre Dano, le Danaidi giungono ad Argo e chiedono come supplici l'aiuto e la protezione del re di Argo, Pelasgo, per difendersi da questi odiati cugini pretendenti. La loro supplica, dopo alcune titubanze, diciamo, di Pelasgo, viene accettata. Però Pelasgo vuole che prima sia l'Assemblea, vuole che sia l'Assemblea del suo popolo, del popolo argivo, a votare per alzata di mano, Democratusa, Keir, la mano vincente del popolo. E in questo suscita lo stupore delle migranti, appunto, africane, che provengono da un mondo in cui la concezione del potere è assolutista, è autoritaria e suscita anche la curiosità, la loro curiosità sulle modalità di svolgimento di questa, per loro, inedita procedura costituzionale. Se nell'antigone di Sofocle il re di Tebe, Creonte, decide senza sentire il popolo, ossia la condanna a morte della protagonista, nelle supplici di Eschilo, che pure precedono l'antigone di circa vent'anni, il potere di Pelasgo è dimezzato perché è condiviso dal popolo. E infatti la scena della votazione, che si conclude col voto all'unanimità per l'accoglienza delle supplici, dà corpo, appunto, proprio alla rappresentazione della contemporanea rivoluzione democratica, per cui le decisioni vengono prese a maggioranza. Quando l'araldo degli Egizi giunge ad Argo per intimare alle Danaidi di venire via, proclamando la loro appartenenza ai cugini, cioè loro sono di proprietà dei loro cugini, Pelasgo si oppone e lo caccia. E a questo punto le Danaidi asilanti, potremmo dire, sono ormai sotto la tutela di Pelasgo e di tutti gli Argivi e vengono addirittura invitate a scegliersi liberamente le loro abitazioni, le nuove abitazioni nella città ospitante, persino abitazioni diciamo regali, cioè viene fornita loro la più generosa delle ospitalità dal re Pelasgo e da tutti gli Argivi. Ora già da questa sintesi emerge come, diciamo, c'è una patina arcaica che connota tutta la produzione di Schielea, che però qui si mescola a fecondi elementi di novità, che poi si ritroveranno, di modernità, di sviluppi che si ritroveranno di sviluppo proprio del genere tragico, che si ritroveranno poi nelle tragedie nella produzione di Sofocle e di Euripide. Da una parte c'è sempre, come già nei Persiani, la centralità del coro, che è coinvolto da protagonista nell'azione, quindi c'è una conseguente espansione delle parti corali, sin dall'inizio del dramma, che appunto si apre non con il prologo ma con la parodo, cioè col canto d'ingresso del coro. E poi ci sono aspetti tecnici che conferiscono questa patina di arcaicità, per esempio la presenza in scena sempre di al massimo due attori. Dall'altra parte ci sono elementi di novità, per esempio questa è la prima tragedia che contiene, che presenta, drammatizza, diciamo, a teatro il dilemma del qua faire, cioè del che fare, della scelta, il dilemma tragico. Perché? Perché Pelasgo, il re Agio, è costretto a scegliere tra due alternative, entrambe rischiose per la sua città, cioè concedere asilo dei Danaidi e avviarsi a una guerra sicura con gli Egizi, oppure negare loro l'ospitalità e violare così le leggi sacre, appunto, dell'ospitalità verso i supplici, e quindi causando l'ira di Zeus Ikesios, cioè di Zeus protettore dei supplici. Ed esponendo così la città a un rischio di miasma, cioè di contaminazione. Infatti, una volta riconosciute le Danaidi come parenti, alla luce di quella parentela instaurata, diciamo, in epoca mitica dalla, diciamo, giovenca Io, che da Argo si era trasferita in Egizio, una specie, diciamo, di migrazione in senso opposto, no? Dall'Occidente all'Oriente. Una volta, quindi, verificato che, appunto, le Danaidi sono parenti consanguine e protoargive, ne consegue che anche i figli di Egitto, quindi i loro cugini egizi, sono altrettanti parenti, sono protoargivi e consanguinei. E quindi, in un caso, la morte delle fanciulle per suicidio, perché, come vedremo, le fanciulle minacciano di suicidarsi se non verranno accolte. Quindi, la morte, in un caso, sarebbe la morte delle fanciulle per suicidio. Nell'altro, la morte dei maschi, dei cugini, nella battaglia, prevista per difendere, appunto, le fanciulle, contaminerà il suolo della città, dice Eschilo, con sangue fraterno, oma imon aima. Quindi, c'è il concetto, diciamo, della consanguineità delle due stirpi. E poi, c'è anche altri aspetti di particolare... Poi ci sono degli aspetti ulteriori di novità, per esempio, l'accostamento del concetto di temis, che è la giustizia assoluta, con quello di dicche, che è la giustizia relativa, che scaturisce quella che scaturisce da una sentenza di un tribunale. Quindi, è un passaggio che poi Eschilo stesso rappresenterà di lì a pochi anni, nell'Orestea, in particolare nelle Eumenidi, con l'istituzione dell'area opago. E soprattutto, c'è l'elogio del sistema democratico, che consiste nel sottoporre ogni giustizione al voto del popolo, al voto della maggioranza. Una circostanza tanto più singolare, se si considera che a proporre questo modus operandi è un re, un basileus pelasgo, appunto, nel quale, appunto, le danaidi individuano, invece, un capo che, in teoria, sarebbe libero da ogni controllo, e anzi, lui lo identificano con la città stessa e con il popolo, cioè non avrebbe bisogno di chiedere il parere di nessuno. Ma, soprattutto, l'aspetto che rende straordinariamente moderna, già per gli antichi, questa tragedia, è l'anomalia che percorre il dramma e tutta la trilogia, di cui parlerò a breve, una trilogia composta, come sapete, diciamo, da altri due drammi, egizi ed anaidi, in cui si racconta il sequel di questa storia, su cui tornerò più avanti. Per cui, diciamo, nel conflitto innescato dal canonico schema triangolare, diciamo, delle tragedie, le cosiddette tragedie di asilo, dell'asilo, cioè le tragedie incentrate sulla richiesta di asilo, è un triangolo composto convenzionalmente da persecutore, da una parte, e supplice, ovvero rifugiato, migrante, asilante, dall'altra, è ospite, cioè protettore, paese ospitante, terzo, diciamo, polo, diciamo, di questo triangolo. Quindi, dicevo, nel conflitto innescato da questo canonico schema triangolare si innesca un più ancestrale conflitto tra i sessi, con la prima rivendicazione, dialetticamente argomentata sulla scena atenese del V secolo, del diritto all'autodeterminazione della donna, al matrimonio, e al matrimonio non contratto con la violenza. Ebbene, il senso di alterità che connota la condotta delle adanaidi, non solo in terra straniera, ma già in terra patria, e che ne ha determinato la fuga, si percepisce già dall'inizio, diciamo, della tragedia, perché loro raccontano, anzi cantano, appunto perché il dramma comincia con la parodo, con il canto della parodo, di essere giunte ad Argo, non perché sono state mandate in esilio da qualcuno, ma per libera scelta, per avversione contro gli uomini, per misandria, odio nei confronti degli uomini. Più precisamente, appunto, contro i conterranei egizi, cugini, contro i figli di Egitto, che erano decisi a imporre il loro matrimonio, appunto, con la violenza, per estendere così anche alla Libia, evidentemente, il controllo dell'Egitto, cioè il controllo dell'Egitto sul territorio libico. Dunque, la loro è una, dicono loro, una autogenes fuxanoria, cioè una fuga dinanzi agli uomini della stessa stirpe, ed è un rifiuto del Gamos, del matrimonio, e dell'empio progetto dei figli, Gamos, Ai Giuptu, Paidon, Asebe, Dianoian, un'empietà che si traduce in un miasma, appunto, in una contaminazione della loro stessa stirpe. Stirpe che, con un ossimoro, diciamo, molto efficace, Diano definisce una stirpe di nemici con lo stesso sangue che infettano la stirpe, Ectrono, Maimon, Caimia, Inonton, Genos. Dice Diano, cioè il padre dei Danaidi, dice come può restare puro, cioè quindi non contaminato dal miasma, un uccello, in particolare uno sparviero, che mangia un altro uccello, in particolare la colomba, quindi gli sparvieri sono gli egizi, le colombe sono le Danaidi, e rimanere in questo modo agnos, puro. Come può rimanere pure uno che si unisce a una donna che lo rifiuta, prendendola da un padre che gliela rifiuta, accusan a conto spara. Ora, appunto, è stato osservato che, dichiarando la, diciamo, la sua accusia, cioè la non volontà di consegnare le proprie figlie ai, diciamo, ai loro cugini, Danao implicitamente, diciamo, introduce una dimensione giuridica che fino a quel momento era stata trascurata dalle figlie, appunto, dalle Danaidi, e che, diciamo, andrebbe presa in considerazione quando ci si interroga sulla cosiddetta questione endogamica dell'azione delle Danaidi, cioè perché le Danaidi non vogliono sposare i loro cugini, cioè questo è il tema, se per odio nei confronti, un odio generalizzato nei confronti del genere maschile, se, diciamo, perché rifiutano appunto l'endogamia, cioè l'unione matrimoniale con i loro consanguinei. Questa cosa non è assolutamente chiara ed è un nodo mai sciolto, diciamo, dalla critica che si occupa di questa tragedia. L'accusia del padre, appunto, in realtà si afferma anche alla luce del diritto attico come un veto valido rispetto alle norme ateniesi sull'epiclerato, cioè le norme per cui le figlie, diciamo, rimaste orfane dei loro padri potevano essere sposate dai loro zii. In questo caso la norma dell'epiclerato non può essere applicata perché il padre Danao è assolutamente vivente, quindi, diciamo, Danao non lo dice esplicitamente, ma, diciamo, si può appellare anche a questa norma che però è una dimensione giuridica tipicamente ateniese, non certo libica, egizia, africana. Si è anche evidenziato che nel successivo confronto col re di Argo, Pelasgo, alle domande circa l'evento che ha portato le Danaidi alla fuga dalla loro terra, loro rispondono appunto di considerare il matrimonio con i cugini egizi una schiavitù. Cioè loro dicono io sono fuggita per non diventare schiava, tmois, schiava, dei figli di Egitto, un epiteto che, come probabilmente sapete, è legato al verbo damaso, che vuol dire domare, no? Detto anche degli, insomma, degli animali, dei cavalli che devono essere addomesticati. E quindi mi dimostrano una autoconsapevolezza straordinariamente moderna, diciamo, laica, del sé, queste donne, del sé, del proprio diritto di autodeterminazione alla scelta matrimoniale. quando adducono l'odio, appunto, che hanno nei confronti dei cugini egizi. Loro, per esempio, non parlano del problema dell'incesto, appunto, cioè del timore che questa unione tra consanguinei potrebbe violare una qualche legge divina. Di questa cosa loro, insomma, non la adducono come motivo della drofuga. Dicono piuttosto, quale donna trarrebbe vantaggio ad amare i suoi padroni? Quindi lo sposo è un padrone. Dice noi, dice per questo noi, diciamo, scappando, fuggendo, noi che siamo indomate, indomate e indomabili, ad Amaton, ancora un altro epiteto che si ricollega alla, diciamo, alla radice del tema damazzo, del verbo damazzo, dice noi che, appunto, siamo indomate, noi queste nozze le possiamo evitare. E ancora, poi, quando, diciamo, lanciano un altro allarme durante il tentato rapimento delle donne che l'araldo egizio cerca di fare quando arriva ad Argo e le reclama, loro chiedono aiuto ai capi della città di Argo e dicono vengo damnamai, vengo catturata. Quindi c'è, diciamo, una dinamica schiava padrone, moglie marito, che è confermata nella successiva replica dell'araldo che promette alle donne che avranno, che non devono lagnarsi, perché presto avranno molti anaktes, cioè molti signori, cioè molti padroni, molti padroni per loro, non avranno, appunto, da lagnarsi di essere senza padrone, uc e reit anarchian, dice, appunto, i padroni sarebbero i figli di Egitto. Questa loro alterità pone in essere, come dicevo all'inizio, tutta una serie di inversioni etiche ed etniche che rendono l'interpretazione di questa tragedia molto meno semplice di quanto possa sembrare in prima istanza. Tanto più, appunto, in considerazione degli sviluppi che la vicenda mitica delle Danaidi assumeva in quello che doveva essere il sequel delle supplici, cioè, appunto, nelle due tragedie per noi perdute della trilogia, gli egizi e le Danaidi, nelle quali, appunto, tragedie che fanno delle Danaidi un paradigma di efferatezza e di perversione femminili. Il prototipo più deteriore del modello di quella donna amazzone che viene poi, diciamo, sigmatizzata, non è l'immaginario collettivo dei greci, ma anche di noi moderni. E perché queste donne, queste donne dei Danaidi si trasformano, appunto, in amazzoni, nel senso che, nelle due tragedie per noi perdute, diciamo, che cosa accadeva? Che dopo essere state accolte da Pelasgo e ospitate, appunto, aver trovato ospitalità ad Argo, e Pelasgo, ovviamente, va incontro alla guerra, come, peraltro, egli stesso sapeva. Voi sapete benissimo che un eroe tragico, comunque, si trova di fronte a un dilemma tragico che non può avere un esito positivo, cioè, quale che sarà la sua scelta, sarà sempre una scelta fuori la disventura. E questo è il senso del qua, fer, del che fare, no? È sempre un dilemma che non porta mai a un esito, diciamo, risolutivo, nel senso positivo del termine. E quindi, come aveva preventivato Pelasgo, ci sarà una guerra. Gli egizi porteranno guerra agli Argivi, occuperanno la città di Argo, costringeranno le mogli, le cugine, a sposarle, e le cugine, per tutta risposta, li uccideranno tutti, tutti i loro mariti, e quindi si trasformeranno in, diciamo, Amazzone, o se volete, in donne di Lemno, se ricordate l'episodio mitico delle donne di Lemno che uccidono i loro mariti perché ripudiate dai loro mariti stessi per via della loro disosmia, del loro cattivo odore, e appunto ripudiate in favore di schiave e tracce. Quindi, diciamo, diventano uno dei tanti prototipi delle donne diavolo, per così dire, cioè delle donne foriere di sventura, delle vere e proprie Amazzoni. E quindi, diciamo, queste inversioni sono tanto più interessanti se si pensa appunto al sequel dell'azione che doveva svolgersi, diciamo, nelle tragedie successive. Di queste inversioni, diciamo, quindi alla prima di queste inversioni, quella più evidente, diciamo, quella di genere, cioè nel senso del capovolgimento dei rapporti di forza e di ruolo tra i sessi, fanno seguito altre inversioni e anomalie che si protraggono nel corso del dramma. Un'anomalia etnica, dicevamo, perché loro dichiarano di essere greche in virtù della loro discendenza dalla argiva io, implicitamente anche lo dimostrano, e non solo, ma lo dimostrano di essere greche anche dal punto di vista etico, appunto, anomalia anche etica, ideologico, perché rivendicano il valore della peito, cioè della persuasione, come valore fondante dell'amore, come condizio sine qua non del matrimonio. C'è un frammento delle Danae, di una delle due tragedie della trilogia Per Noi Perduto, in cui c'è un encomio, un elogio, un inno alla peito, che è una personificazione di Afrodite, cioè Afrodite, la dea dell'amore, è personificata nella persuasione, quindi il concetto di peito, che implica quello della seduzione, è basato sulla persuasione della persona amata, non sulla violenza e sull'abuso sulla persona amata. Ebbene, dimostrano quindi di essere greche anche da un punto di vista etico e ideologico, e come il loro padre, hanno anche familiarità con il diritto attico, anche se non parlano esplicitamente di epiclerato, però, diciamo, il padre, Danae, lascia intendere che non essendo egli morto, i cugini non possono disporre della vita delle cugine. Eppure, nel loro aspetto fisico, appaiono, e anche nei loro comportamenti, diciamo, un po' scomposti, immediati e futuri, diciamo, pensate anche all'uccisione dei loro mariti, si dimostrano più simili a donne barbare. Loro arrivano in scena con delle vesti che Pelasgo definisce appunto barbare. Il tessuto orientale dei loro pepli viene menzionato dalle stesse fanciulle che temono che vengano strappate le loro vesti preziose, variegate, insomma, vesti tipicamente orientali. Pelasgo all'inizio fatica a credere che quelle donne siano di stirpe argiva e ricapitola una specie di campionario di forme esotiche del femminile, cioè tutte le tipologie, diciamo, femminili presenti nell'area nilotica oppure nella zona del fiume Indo oppure in Etiopia e menziona, peraltro, anche le Amazon. Insomma, non riesce a riconoscerle come donne greche, cosa che loro invece rivendicano di essere. Loro stesse pongono l'accento sul fatto di parlare straniero, ovviamente alludono al fatto che non parlerebbero greco e che hanno una carnagione scura, quindi hanno anche un'anomalia fisica da questo punto di vista rappresentano un'alterità rispetto al prototipo della donna greca. E un'ulteriore anomalia espressiva si registra nelle perifrasi che le Danaidi e il loro padre Danao introducono anche nella rappresentazione del divino. Le supplici si presentano ad Argo e si rifugiano diciamo presso le statue degli dei greci, evidentemente. Ebbene, il padre Danao illustra alle sue figlie chi sono questi dei, queste divinità, quindi i vari altari che sono riuniti, l'altare comune agli dei qui riuniti presso il quale le supplici si sono rifugiate e quindi spiega loro, diciamo che indica loro con dei dei ittici, con dei pronomi dimostrativi che indicano il fatto che queste statue dovevano essere presenti in scena, questo uccello, cioè l'aquila di Zeus e le supplici rendono onore all'aquila di Zeus identifica l'ondolo col dio sole, col dio egizio che per loro è il sole. Ancora, Danao indica questo tridente, il tridente sarebbe il dio Poseidone, il dio del mare, questo araldo, questo araldo sarebbe Hermes, l'araldo degli dei. Insomma, Danao invita le figlie a venerare, a rendere onore a chi è in questo loro atto di supplica a tutti gli dei greci come se fossero i loro stessi dei. Quindi, diciamo, nell'indicare appunto alle figlie del stato degli dei, propone un gioco di identificazione che si articola anche come un esercizio di traduzione culturale, un po' quell'esercizio di traduzione culturale a cui alludevo all'inizio facendo riferimento alle storie di Erodoto. Quindi la traslazione da una lingua all'altra, da un sistema culturale all'altro, appunto, resa ancora più esplicita nel caso di Hermes che viene definito araldo secondo il culto dei greci e anche secondo il culto dei barbari. Questa nomadia, diciamo, se non è una vera e propria inversione, si registra anche nel rituale della iketeia, cioè della vera e propria supplica, che viene qui totalmente sovvertito dalle donne nel segno del egoismo, della prepotenza, dell'empietà e finisce per capovolgere paradossalmente lo schema convenzionale delle tragedie di supplica, trasformando le supplici in persecutrici, quindi gli argiti, e sta trasformando quindi gli argivi in vittime e gli egizi in qualche modo in protettori. Paradossalmente questo accade appunto nel sequel della trilogia. Anzitutto la supplica è anomala nella dubbia legittimità della causa che la muove, cioè il loro rifiuto del matrimonio con i cugini, dicevo, non è suffragato da motivazioni oggettivamente giuste, quindi l'assunzione dal parte loro della veste di iketides, di supplici, non è del tutto lecita. Pelasgo, il re di Argo, pone loro una serie di questioni anche di diplomazia internazionale, cioè dice a quale diritto vi appellate per rifiutare il matrimonio con i cugini e i figli chiede anche i vostri cugini non possono vantare un diritto su di voi in forza di una legge che magari è in vigore nella vostra polis, Argo ovviamente parla appunto dell'Egitto come di una polis, parla con i termini usati in linguaggio della democrazia atenese e quindi dice se loro si appellano a una legge della vostra diciamo polis della vostra costituzione per così dire non c'è modo di contrastarli e quindi voi dovreste difendervi secondo le leggi della vostra città le Danaidi non danno risposte puntuali a queste domande ma richiamano l'ossessione del miasma cioè della contaminazione cioè continuano a minacciare Pelasgo e gli Argivi del fatto che se Pelasgo non darà loro ospitalità gli Argivi si macchieranno di un miasma di un atto di empietà molto più grave perché non avranno garantito diciamo ospitalità ai supplici quindi diciamo si appellano a una norma di diritto sovranazionale che dovrebbe sovrastare le norme del diritto nazionale di ciascuna diciamo nazione per così dire quindi Pelasgo in realtà dubita della validità dello status di supplici di queste fanciulle e loro sono atipiche appunto nella rivendicazione di una causa che è dubbia persino il padre Danao avverte il bisogno di raccomandare le figlie di usare diciamo parole rispettose e lamentose nella formulazione della loro richiesta parole che chiariscano il loro stato di bisogno quindi insomma le invita a non rivendicare un diritto ma piuttosto a chiedere aiuto le ammonisce a non lasciar trasparire dalle loro parole temerarietà totrasiu dice dice Pelasgo dice scusate Danao il loro padre ricordati di essere accondiscendente questo è necessario perché sei una straniera sei una esule dice Pelasgo alle proprie figlie scusate dice Danao alle proprie figlie e le parole arroganti appunto dice non si addicono il trasiusos tomein non si addice a chi è più debole e invece loro non come dire non ascoltano non danno ascoltare il loro padre ma minacciano esplicitamente Pelasgo non tradire noi esuli che siamo scacciate da empia persecuzione non mandarci via non accettare di vederci strappate via predate dai sacri altari degli dei che sono i vostri dei ma sono anche i nostri dei tu che sei il signore assoluto di questa terra quindi ancora una volta il Pelasgo sarebbe il sovrano assoluto nell'ottica delle donne libiche riconosci la violenza di quegli uomini e guardati dall'ira divina evita la collera il cotos di Zeus e alla fine minacciano proprio dicono sta pur certo che ai tuoi figli alle vostre case toccherà poi di saldare il giusto conto della giustizia o moian temin del tuo agire è stato notato che siamo qui di fronte a una anche diciamo tutto questo viene espresso in un canto di supplica che le Danaidi rivolgono a Pelasgo in un canto lirico composto in un ritmo critico il ritmo critico è un dal punto di vista metrico è un ritmo utilizzato nei canti in armi nei canti dei soldati in armi nei canti di battaglia quindi è un ritmo tipicamente maschile quindi tipico dei contesti militari maschili quindi tutt'altro che il ritmo di un canto di supplica e un ossimoro analogo era presente già prima nel canto della parola dove le asilanti nel mentre invocavano lo Zeus Ikesios appunto protettore dei supplici e tutte le divinità protetici di Argo in nome di questa lontana parentela al tempo stesso auspicavano bellicosamente lo sterminio dello sciame prevaricatore dei figli d'Egitto quindi di fatto annunciavano lo sterminio che SSS avrebbero compiuto quella torma di maschi prima che metta piede su questo suolo fangoso insieme alla sua nava veloce ributtatelo a mare la burrascosa rovinosa tempesta la tuono e fulmine e venti grevi di pioggia contro gli aspi flutti li facciano sfracellare e morire prima prima che salgano sui nostri letti che Temis cioè quindi la idea della giustizia preclude loro e violino la parentela fraterna dei nostri padri e soprattutto la parentela fraterna dei nostri padri che noi non vogliamo tende patra del feian a e conton quindi è la non volontà delle supplici non ben diciamo motivata da una serie di ragioni che non sono neanche bene chiaramente esplicitate ma comunque una non volontà di essere prese con la forza dai loro cugini in realtà diciamo dei supplici risultano abbastanza inefficaci nel convincere Pelasgo di questa loro condizione di vittime inermi della persecuzione dei cugini e alle esitazioni di Pelasgo del re di Argo reagiscono adombrando appunto come vi dicevo la macchia del sacrilegio su chi non rispetta i supplici e poi arrivano come vi dicevo prima a minacciare esplicitare il vero e proprio ricatto minacciando di suicidarsi nel modo più empio e irrituale che si possa immaginare cioè impiccandosi alle statue degli dei con le loro cinture è stato notato che forse in questa immagine nel richiamo ai lacci appesi alle statue forse c'era un'allusione in riferimento alla storia degli supplici ciloniani i seguaci dell'aspirante tiranno cilone che come ci dice Plutarco nella vita di Solone aveva poi guadagnato meritato all'arconte Megacle a tutti gli Alcmeonidi quindi a tutta la famiglia diciamo da cui poi verrà Pericle che furono responsabili dell'assassinio dei ciloniani la macchia infamante di Sacrileghi bene loro minacciano di uccidersi di suicidarsi impiccandosi alle statue degli dei con le loro stesse cinture e quindi le Danaidi dicevo si trasformano da vittime a persecutori quindi a questo punto inizia la vittimizzazione di Argo quindi Argo appunto da città ospitante diventa vittima delle supplici e questo questo processo troverà la sua più compiuta realizzazione nel prosiego della trilogia in cui appunto prosiego della trilogia in cui doveva svolgersi anche lo slittamento degli egizi verso il ruolo di diciamo dominatori di Argo se non addirittura di protettori della città stessa dopo la caduta di Argo di Pelasgo dopo che Pelasgo era stato sconfitto dagli egizi quindi gli egizi sconfiggono Pelasgo e prendono il potere al suo posto e si prendono cura della città in qualche modo quindi si sostituiscono a Pelasgo e instaurano un nuovo regime diciamo che implica ovviamente il matrimonio con le loro cugine ora è evidente che questa catena di anomalie inversioni e perversioni conduce a una sorta di ribaltamento di quella polarità greco-barbarbaro che viene in genere riconosciuta nella più antica delle tragedie su Persini di Eschilo cioè come dicevamo all'inizio nei Persiani se nei Persiani Eschilo sembra declinare questa polarità in termini assoluti cioè rimarcando la totale eterogeneità delle due realtà e la quindi le due diciamo Oriente e Occidente e la compatta o meglio ancora Greci-Persiani e la compatta omogeneità all'interno di ciascuna di queste due realtà per quanto diciamo poi diciamo se nei Persiani diciamo c'è questa polarità binaria in realtà diciamo la sofisticatezza della trattazione del plot della trama e della supplica diciamo degli asilanti nelle supplici rimescola questi stereotipi convenzionali della dicotomia Occidente-Oriente mi preme però diciamo rimarcare che anche negli stessi Persiani dove appunto i quali come vi dicevo all'inizio Edward Said Edith Holland e tanti altri su Deo siamo riconosciuti diciamo la genesi della cristallizzazione di questa dicotomia binaria però pure negli stessi Persiani l'alterità dell'Oriente che è appunto funzionale all'autodefinizione identitaria dell'Occidente persino nei Persiani questa alterità binaria è molto più sfumata di quanto in genere non si riconosca a mio parere diciamo in questo senso è emblematico il sogno che l'anziana regina atossa nei Persiani racconta al coro degli aver fatto la notte precedente precedente diciamo all'arrivo della notizia della disfatta e questa è anche la prima rappresentazione allegorica voi sapete anche il ruolo che il sogno ha non state pensate al sogno di Clitenestra nell'agamendo insomma il sogno allegorico il sogno premonitore ha un ruolo centrale che svolge appunto sempre uno snodo diciamo cruciale nelle trame delle tragedie di Eschio ebbene la regina appunto racconta la regina persiana a tossa racconta al coro di aver fatto il sogno che dicevo un sogno che è la prima rappresentazione allegorica del rapporto tra Persia ed Ellade nella letteratura greca dice di aver sognato due sorelle entrambe di incomparabile bellezza e di statura imponente si insise sul fatto che sono sorelle di sangue della medesima stirpe Casigneta Genus Tautu solo che a una era toccato in sorte di abitare la terra greca all'altra era toccato in sorte di abitare la terra barbara ed è qui interessante sempre per quel processo di traduzione culturale diciamo da un mondo all'altro diciamo che l'autore greco opera nei confronti del mondo persiano per proporlo al pubblico greco al pubblico atenese è interessante che sia la regina barbara appunto a tossa a definire barbaros la propria terra la terra asiatica ad autodefinirsi barbara quindi per allegoria per il tramite di questa allegoria si riafferma la parentela tra i due popoli grece e barbari che appunto tra l'altro diciamo in una versione mitica diciamo che era stata proposta nella parodo era già stata evocata dal nome di perseo o perseo argivo che era stato definito ero eponimo del popolo persiano quindi perseo viene definito come l'eponimo del popolo persiano abbiamo parlato ieri di medea come eponima della popolazione dei medi comunque nella ricostruzione della regina la spartizione tra persia ed ellade è l'effetto di un gioco della sorte gioco della sorte che ha determinato l'insediamento dei persiani nella terra dei barbari e dei greci nella terra di ellade ed è significativo che eschilo non faccia qui riferimento a una divisione geografica e mitica assoluta tra asia ed europa ma a una spartizione del mondo in cui i confini politici non coincidono perfettamente con i confini geografici questa imperfetta coincidenza è particolarmente evidente nella posizione liminare lo dicevo anche ieri parlando diciamo delle argonautiche di apoloneorodio e delle argonautiche orfiche la posizione liminare delle colonie ioniche che sono greche di fondazione e di cultura ma sono poste sulla costa asiatica e che costituiscono il primo oggetto della contesa tra greci e persiani con la rivolta ionica la distinzione tra le due sorelle nel sogno della regina Atossa è percepibile anzitutto nell'abbigliamento la regina Atossa ci dice che questa sorella di queste due sorelle una porta versi persiane l'altra versi doriche in particolare il peplo di rana grezza e non tinta viene considerato una sorta di antico costume ellenico che mantiene il nome di dorico perché è costume nazionale della conservatrice città di Sparta e si oppone nella sua severa semplicità al costume persiano caratterizzato nei materiali e nella foggia dal lusso e dalla raffinatezza effeminata l'altra diversità è di carattere cioè c'era un contrasto tra queste due sorelle erano ostili l'una all'altra dice la regina Atossa dice mio figlio Cerse se ne accorse e cercava di trattenerle cercava di ammansirle e le legava entrambe le legava entrambe al gioco di un carro vi ricordate Cerse che crea il gioco gioco di gioco aggiocava dell'esponto con le navi e quindi lui cercava il mio figlio Cerse nel sogno cercava di aggiogarle diciamo a un carro imponeva loro le redini al collo ma questa diversità si esprime nel comportamento diverso rispetto al gioco imposto dal re persiano la sorella persia è naturalmente docile sottomersa fiera dell'imbrigliatura che è il segno del suo servaggio la sorella ellade è scontrosa e ribelle renitente al morso del potere imperiale al di là di questo stereotipo quello che mi preme evidenziare quindi che si riconferma evidentemente quello che mi preme qui evidenziare è che la regina a tossa rappresenta in questo suo sogno il contrasto tra persia ed ellade come un dissidio fraterno che il re Cerse appunto cerca di controllare e dunque non è per concludere insomma alla luce di tutto questo non mi sembra infondata l'idea di chi sin dall'antichità sin a partire dal quarto secolo diciamo da De Mostene ha definito a buon diritto diciamo l'Ellade anzi la storia dell'Ellade la storia della Grecia come la storia di un'area marginale e inquieta dell'impero persiano vi ringrazio a buon diritto 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 Grazie a tutti.